Accusato di omicidio preterintenzionale, lo scorso 21 ottobre è stato scarcerato per scadenza dei termini di custodia cautelare. Nella notte di Halloween era in discoteca a divertirsi. Non ce la fanno i genitori di Francesco Pio D'Augelli, il 17enne ucciso con una coltellata ad un fianco il 18 luglio scorso a San Severo, a far finta di nulla, sapendo che mentre l'omicida a un 16enne era a divertirsi, loro continuano a piangere la morte del proprio figlio. L'appello disperato arriva da Teresa e Merico D'Augelli, sconvolti nel constatare l'assoluto paradosso, aspettando che la giustizia faccia il suo corso. E la mamma Teresa sottolinea, non chiediamo vendetta, vogliamo solo che l'assassino torni in carcere. Pensate al dolore di una madre nel sapere che l'assassino del proprio figlio si sta divertendo, mentre Francesco Pio non c'è più. Il delitto risale alla sera del 18 luglio scorso, quando Francesco Pio D'Augelli incontrò quello che credeva potesse essere il suo rivale in amore. Francesco chiese spiegazioni su uno scambio di messaggi tra il ragazzino e la sua fidanzata, avvenuto qualche mese prima sui social. I toni però si scaldarono. Francesco colpì con due schiaffi il 16enne e quest'ultimo estrasse un coltello e lo ferì al fianco, provocandone il decesso. Il 16enne sostiene di non aver avuto alcuna intenzione di uccidere il rivale, ma di averlo solo voluto allontanare. Di qui la decisione del Tribunale del Resame di riqualificare l'accusa originaria di omicidio volontario ad omicidio preterintenzionale che prevede la scarcerazione dopo tre mesi. Contro questa decisione la Procura per i minorenni ha fatto ricorso. L'udienza è fissata per il 9 novembre, ritenendo che i termini di custodia cautelare sono di sei mesi perché il reato contestato è quello di omicidio volontario e che la decisione del riesame in questa fase non è vincolante.